Si svolta ieri a Siderno davanti alla statua di San Francesco sul lungomare la cerimonia ufficiale di innalzamento della bandiera blu alla presenza di cittadini, associazioni e autorità. Un prestigioso riconoscimento, quello della fe, che la città di Siderno ha ottenuto per il quinto anno consecutivo, anche grazie al raggiungimento dei parametri richiesti dal disciplinare. È ovvio che l'ambito vessillo rappresenta dal punto di vista turistico grandi vantaggi in termini di attrattività e dunque va mantenuto di anno in anno con altrettanta scrupolosità. Alla cerimonia era presente il vice sindaco Salvatore Pellegrino, che ha messo in evidenza come Siderno è l'unico comune superiore a 15.000 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata ben superiore al minimo richiesto e dunque è stata premiata la qualità eccellente delle acque. Siamo felici e orgogliosi per il quinto anno consecutivo di aver ottenuto l'importante vessillo assegnato dalla Fondazione FE. È un vessillo che viene riconosciuto alle località balneari e turistiche che rispettano determinati criteri di qualità. Mi riferisco nello specifico alle eccellenti acque di balneazione che grazie appunto anche ai campionamenti che vengono frequentemente, periodicamente fatti dall'ARPACAL, le nostre acque risultano appunto eccellenti. Mi riferisco all'accessibilità alla spiaggia e al mare, ci terrei anche in qualità di assessore alle politiche sociali, a specificare quello che è un progetto che ormai da due anni portiamo avanti, al mare oltre le barriere, ci ha consentito di installare un'apparecchiatura specifica, una passerella meccanizzata che consente di far accedere le persone in carrozzina, le persone con disabilità in mare. Grazie anche all'assistenza di un nostro partner progettuale e l'associazione Camminando Uniti con il presidente Cosimo Ieraci che fornirà, metterà a disposizione gli operatori che consentiranno appunto alle persone che vogliono utilizzare la passerella di poterlo fare in sicurezza. Mi riferisco anche alle iniziative di sensibilizzazione ambientale che abbiamo svolto durante l'anno, ricordo l'evento Puliamo che è la pulizia della spiaggia che viene organizzata in collaborazione con Lega Ambiente, WWF, associazioni cittadine, cittadini. Ricordo la pedalata ecologica che è un evento organizzato nella prima domenica di maggio dove partecipano numerose famiglie, numerosi ciclisti, quest'anno sono stati circa 200, ringrazio a proposito il consigliere Fabrizio Figlomeni che ha proposto da diversi anni l'evento.